Allora, volevo fargli fare un'entrata diversa tipo della sposa, ma siamo entrati così per cui l'applauso c'è stato e questo è l'importante. Allora, quello che volevo dirvi è questo. Apriamo con Francesco Costa la 34esima edizione del Premio Chiara. C'è una bella canzone di Vasco Rossi, a me piace Vasco, mi tocca il cuore, mi emoziona e mi fa anche sognare Vasco. Questa canzone dice E già, io sono ancora qua e questa è una canzone per me giusta in questo momento. E già io sono ancora qua, 34 anni di premio letterario dedicato a Piero Chiara, dedicato al racconto, dove anche avviene un festival del racconto. Per cui siamo, diciamo, veramente contenti di aprire con Francesco Costa del suo racconto che ci parlerà dell'America e anche la presentazione del nuovo libro di California, edito da Mondadori. Come avviene? Non sto adesso a presentarvi Costa, che sicuramente lo conoscete voi meglio di me e questa è la cosa importante, avere un pubblico che ti sente, avere un pubblico affezionato, avere un pubblico che ti segue soprattutto. Vi hanno scritto io vengo da lontano, avrò il posto. Abbiamo preso una sala apposta, bella grande, e questo è. Cosa succede oggi? Succede la presentazione del libro che voi avete visto, tra l'altro quelle copie non sono tantissime, per cui chi avesse voglia poi c'è il primo copio e lui si fermerà qua. E questo è una cosa bella, è un ricordo di questa serata. E poi ci sarà, dopo la sua presentazione, un intervento di Rudy Bianchi, che è mio fratello, di quando abbiamo realizzato, diciamo, l'idea di fare questo evento. Gli ho detto, ma vuoi far da solo? Ti piacerebbe dialogare anche con uno che vive da 40 anni negli Stati Uniti e in California soprattutto? E per cui ci sarà lui in remoto. Ok, allora, iniziamo, grazie a tutti voi di essere presenti e adesso ci sediamo. Buonasera ragazzi. No, stiamo addirittura cominciando in anticipo. Sì. No, ma io sono favorevole, io devo andare a letto presto, quindi... Perché ci sarà un momento dedicato alle domande, all'interesse che potrà suscitare questo racconto e anche alle curiosità. Per cui qui ci sarà, se ferma qui, Francesco, forse l'ho già detto prima, per fare prima copie, ma prima avremo un altro microfono e Valentino ci aiuterà, girerà e per cui accenderemo un po' di più le luci. E chi vuol fare delle domande a Francesco, potete fare ciò che volete. Sì, no, non prendetela proprio alla lettera, diciamo. No, volevo ringraziarvi dell'invito, volevo ringraziarvi dell'ospitalità, sono molto felice appunto di essere qui a raccontare di questo libro dell'America al premio Chiara, sono molto felice che siate così numerosi e numerose e quindi sì, confermo che poi mi fermerò alla fine dell'incontro per firmare le copie di chi vuole appunto una dedica o vuole portarsi avanti quei regali di Natale, quindi uno firma le copie e poi le regalate. Se consiglio, diciamo, disinteressato, se volete pensarci in anticipo, sono i libri lì fuori. Cosa vogliamo fare? Cominciamo? Il microfono. Allora, vorrei, com'è partita questa tua passione? Perché questa è una passione, cioè io ho la passione di Del Chiara, poi mi passerà, magari verrà un'altra passione, speriamo magari più, però per ora ci sto bene. Com'è questa passione dell'America? Di parlare, di scrivere dell'America? Com'è nata? Dunque, è nata come poi tante cose della vita per caso, per una serie di accidenti che capitano contemporaneamente. Io avevo un blog, all'epoca in cui i blog erano una cosa, diciamo, su internet, i più anziani di voi te lo ricorderanno, ed era anche l'unico strumento su cui io scrivessi delle cose quando studiavo all'università, nel tentativo anche di imparare delle cose e poter fare magari un giorno del giornalista. Ed è capitato che poi, dopo la laurea, quando provavo davvero a mandare articoli in giro e collaborare con qualcuno, cercando delle cose di cui scrivere mi appassionassi a una storia che stava avvenendo in quegli anni, in quei mesi, scusate, negli Stati Uniti era l'estate del 2007, la candidatura di questo senatore afroamericano, dal nome anche piuttosto improbabile, alle primarie del Partito Democratico, senza alcuna speranza di vincere. Parlo di Barack Obama. Era una grande storia, anche soltanto per la classica dinamica Davide contro Golia, no? Vuoi sapere se chi è sfavorito e parte in grande svantaggio ce la farà a vincere contro i grandi favoriti. E quindi ho cominciato a appassionarmi a questa storia, capendo però rapidamente che se volevo provare a scrivere della campagna di Obama dall'Italia, poi quindi immaginate anche con quale livello di superficialità, dovevo capire meglio tutta una serie di cose che all'inizio non comprendevo, perché Obama vinceva le primarie in uno Stato e poi andava malissimo in un altro Stato? Perché nonostante avesse molti meno soldi della sua avversaria riusciva a competere? Quali erano le regole quindi che governavano la politica americana? E da lì è un attimo a comprare dei libri, restare sveglio la notte per seguire i dibattiti, insomma, mi sono appassionato a quella storia lì con quella passione, diciamo, immersiva che capita quando ci imbattiamo in qualcosa che ci piace in quegli anni, quando si hanno vent'anni, che anni dell'università. Poi è capitato che, proseguendo la mia gavetta, io venissi effettivamente preso da un giornale per caso nei primi giorni di novembre del 2008, quindi siamo andati un po' avanti nel tempo, e che il primo incarico che mi viene dato all'epoca da quel quotidiano è passare la notte delle elezioni americane in un locale a Roma dove gli americani avrebbero seguito lo spoglio. E quindi io mi ritrovo a fare effettivamente il giornalista per la prima volta nella vita, già, diciamo, questa cosa era un sogno realizzato. In mezzo a questi americani che poi passano la notte felici, commossi, abbracciati, perché hanno assistito a un evento storico, e io sono lì in mezzo a loro, e per quanto sia a Roma mi sento parte di quell'evento storico, perché gli americani sono coinvolti dalla elezione del primo presidente afroamericano di sempre, e a quel punto vengo comprato a vita, diciamo, dagli Stati Uniti e dal giornalismo, e dal racconto di questo paese che ogni volta che pensi di aver capito qualcosa, ti spiazza in un altro modo. Poi ho avuto la fortuna, diciamo, che gli Stati Uniti sono rimasti, sono ancora molto attuali, e negli anni di Trump lo sono stati ancora di più, avvicinando alla informazione e divulgazione sugli Stati Uniti anche un pubblico che magari non era interessato alla politica estera, ma che voleva capire ogni mattina quando si svegliava con un tweet assurdo di Trump cosa sarebbe accaduto. Ogni tanto scherzo dicendo che il bilancio, diciamo, dell'elezione di Trump sul pianeta è probabilmente un bilancio negativo, sulla mia carriera, devo dire, dovrei forse offrirvi una scena un giorno, nel senso che mi sono trovato, per pura fortuna, poi a essere quello che raccontava le cose americane, non l'unico, naturalmente, in un momento in cui, per cause che non dipendevano da me, molti e molte persone si chiedevano ma cosa sta succedendo effettivamente negli Stati Uniti, e da lì ho cominciato a fare una newsletter, un podcast, e poi a scrivere dei libri che per fortuna sono andati bene, se no mi sarei cercato di occupare di Russia, di cercarmi di altre, di geopolitica, diciamo, come va di moda. Quello che, della tua storia Bordi, quello che Conterei qualcosa del libro, visto che poi siamo qui per questo, in attesa di collegarci con Rudy Bianchi, che è un libro che ha qualche differenza rispetto ai miei due libri precedenti. La prima differenza è che è capitato, diciamo, che mentre scrivevo questo libro io non avevo altri, diciamo, progetti di scrittura e di divulgazione di informazioni sugli Stati Uniti, come era stato negli anni precedenti con Da Costa a Costa, il podcast e la newsletter che ho scritto per anni, e quindi dentro questo libro ci sono tutte storie, diciamo, che non ho mai raccontato altrove, storie che non ho raccontato nei podcast, nelle newsletter, in altri contesti. E poi un libro che non racconta tanto l'America o gli Stati Uniti, quanto un posto ben preciso degli Stati Uniti, che è la California, lo Stato più popoloso e probabilmente il più iconico. Iconico anche perché fa parte del nostro immaginario e della nostra cultura come il posto che incarna il sogno americano. Anzi, forse la California è l'unico Stato che ha diritto ad avere un proprio sogno, il California Dream, Sognando California, anche le canzoni hanno portato questo mito in Italia. Eppure in California sta accadendo un fenomeno da qualche anno a questa parte piuttosto anomalo, che non siamo abituati a vedere da tante parti nel mondo. E cioè che questo Stato innanzitutto si sta lentamente spopolando. Per la prima volta negli ultimi anni i censimenti hanno mostrato che la California ha perso popolazione. Le persone che arrivano, che continuano ad essere tante, sono meno di quelle che vanno via dalla California. Non era mai accaduto prima. E perché questo fatto già di per sé significativo è anomalo e strano? Perché noi siamo abituati a vedere, quando osserviamo dei percorsi migratori, per esempio, salvo che in casi di guerre o di catastrofi naturali, questi percorsi seguono le direzioni dell'economia e delle opportunità. Semplificando, si va via dai posti che offrono meno opportunità e si va verso i posti che si pensa ne offrono di più. Questa era stata tra l'altro la forza della California per secoli. E quindi uno dovrebbe pensare, ed è questa stata la prima cosa che sono andato a guardare, forse l'economia della California non va più forte come prima. Forse questo Stato ha rallentato, forse la disoccupazione è aumentata. E invece, basta vedere, i dati sono pubblici, la California continua ad essere la quinta economia del mondo, continua ad essere uno Stato che ha tre industrie colossali che sorreggono un'economia fatta poi anche di molto altro, che sono tutta l'economia della tecnologia, del digitale, che sta attorno all'area della Baia di San Francisco, tutta l'industria enorme dell'intrattenimento che sta attorno alla zona di Los Angeles, e poi la Central Valley, dove c'è un'industria agricola che produce da sola un terzo della frutta e due terzi della verdura venduta in tutti gli Stati Uniti. La disoccupazione è bassa, il reddito medio continua ad essere piuttosto alto, non è uno Stato in crisi. Perché le persone vanno via da uno Stato in cui chiunque vuole lavorare, lavora, tuttora, adesso? Inseguendo la risposta a questa domanda, ne ho trovate diverse di risposte che racconto nel libro e che ci permettono, spero, di un po' capire che cosa accade in questo posto, oltre l'immagine anche un po' stereotipata della California, ma anche oltre quello che noi siamo in grado di vedere quando andiamo in vacanza in California. Vediamo soltanto dei pezzetti, naturalmente, i più meravigliosi che sono tutti ancora lì, di questo Stato, e anche di capire come questa strana crisi della California stia cambiando un più ampio pezzo degli Stati Uniti. Perché dove vanno i californiani che vanno via? Per esempio, dal 2010 a oggi ogni anno più di 70.000 vanno in Texas, dal 2020 è anche aumentato questo numero, ed è un numero che comincia a essere significativo se considerate che poi si stabiliscono soprattutto attorno alle grandi città. In Nevada, la maggior parte degli adulti residenti, in Nevada non è nata, in Nevada ma è nata in California. E queste trasformazioni sono trasformazioni demografiche che ne innescano altre economiche, che ne innescano alcune politiche, fanno sì che alcuni Stati che per esempio sono stati a lungo molto conservatori, oggi lo siano di meno, grazie anche ai cambiamenti di mentalità che portano i californiani, ma non sono cambiamenti indolori, e sono cambiamenti culturali che provocano a volte anche degli scontri, anche perché coinvolgono Stati che non sempre hanno le spalle abbastanza larghe da reggere questo tipo di immigrazione. Vi faccio un esempio che è anche uno, se volete, estremo, ma per questo eloquente e anche qualche aspetto divertente. Detto che i californiani vanno da qualsiasi parte, e vanno soprattutto negli Stati del Sud, ma non solo. Soprattutto dalla pandemia in poi, l'idea di poter lavorare da remoto li ha portati in dei posti in cui altrimenti non si sarebbero mai trasferiti. E uno di questi posti è l'Aidaho, che è uno stato rurale che ha dei panorami e delle viste bellissime, ma per il resto ha un paio di piccole città, una universitaria un po' più carina, e bestiame, campi dove pascono il bestiame e basta. L'Aidaho, per farvi capire, sapete che nelle targhe delle macchine americane, Pietro, quando noi le guardiamo siamo alla guida, ogni targa ha lo stato indicato della provenienza, diciamo, di quell'auto, e gli Stati delle targhe scrivono degli slogan, mettono degli slogan che raccontano quanto di meglio abbiano da offrire quegli Stati, cosa li rappresenta di più. Per cui Florida, la targa dice The Sunshine State, l'Alaska, The Last Frontier, sono anche dei motti che hanno tutta una solennità particolare. New Hampshire, che è uno degli Stati più antichi degli Stati Uniti, Live Free or Die, perché loro si liberarono dal colonialismo inglese. L'Aidaho, sulle sue targhe, ha scritto dietro Famous Potatoes, patate molto famose. Non hanno trovato niente di meglio, diciamo, di quello. Immaginate cosa possa trovare un californiano, una famiglia californiana che viene da Los Angeles in Idaho, no? Eppure ci vanno perché cosa trovano? Trovano che con la stessa cifra che spendevano in un monolocale a San Francisco possono prendere una villa in Idaho. Se hanno venduto quel monolocale a San Francisco si comprano un ranch in contanti sull'unghia e hanno una qualità della vita imparagonabile a quella della California, ma su questo arrivo tra poco, cercando di unire anche il meglio dei due posti. Cioè, una volta che arrivano i californiani in massa, non solo prendono le case, comprano le case, stimolano molto l'economia perché arrivano e con sé portano una domanda per dei nuovi servizi. Ogni famiglia che arriva dalla California avrà bisogno del meccanico, del veterinario, della palestra, di tutti i servizi di cui soffriamo normalmente. Quindi creano la possibilità per una nuova offerta di servizi, portano sviluppo, lavoro, crescita economica, ma portano anche un po' i problemi che si erano lasciati alle spalle in California perché poi questo mercato immobiliare dell'AIDA non è che non subisca lo shock dell'arrivo di questi californiani che pagano sull'unghia e trattano le case al rialzo e quindi portano un aumento di prezzi che poi gentrifica persino un posto come l'AIDA e portano una domanda di servizi che sono pensati per californiani per cui oggi in posti molto rurali dell'AIDA non è più così improbabile vedere delle caffetterie hipster, sapete quelle che fanno lo specialty coffee che costa 28 dollari e ci mettono un quarto d'ora a fartelo. È buonissimo, però il contadino dell'AIDA percepisce uno shock culturale molto forte così come lo percepisce nel momento in cui le persone californiane cominciano a comportarsi da cittadini e quindi non solo vanno a votare ma fondano il comitato per difendere i diritti delle persone non eterosessuali si iscrivono ai distretti scolastici e propongono di cambiare radicalmente i programmi scolastici al di là diciamo del merito di questi cambiamenti che poi secondo le nostre idee possono piacerci o meno creano delle tensioni con la popolazione che si traducono in anche delle vicende che poi finiscono sui social media la famiglia che va in vacanza in AIDA o passa dall'AIDA o entra in vacanza avendo noleggiato una macchina che è capitato sia targata a California che appiccica sopra la targa una scritta con un foglio di carta con scritto it's a rental l'abbiamo noleggiata non siamo californiani c'è questo prete in AIDA che è noto per avere sulla sua scrivania una targa con scritto non sono nato qui ma ho fatto il prima possibile c'è un giocatore di football universitario in AIDA che viene dalla California ma poi ha studiato in AIDA è diventato una star in AIDA quindi molto amato dalla comunità locale però la sua macchina è targata a California e quindi lui una volta si è svegliato e l'ha trovata imbrattata di scritte go back to Cali California's go home vengono identificati come un po' degli invasori che tendono a far aumentare i prezzi e portare una cultura diversa da quella del posto in cui arrivano in tutto questo cambiano però i posti in cui arrivano li californizzano in Arizona ha vinto Biden alle ultime presidenziali e non vinceva un democratico da più di vent'anni in Nevada e in Colorado ormai siamo abituati all'idea che i democratici vincano ma prima non era così in Texas ogni elezione che passa il distacco tra i democratici e i repubblicani si riduce sempre di più e i democratici sperano un giorno addirittura di vincere in Texas non è che i californiani siano l'unica causa di questi cambiamenti ma la loro presenza per esempio attira persone anche da altre parti d'America perché cambiano i posti in cui arrivano parlavo prima di costo della vita e quando si parla di costo della vita in California si deve per forza partire dalla casa chi di voi è stato in California conosce qualcuno che ci ha abitato o ha dato un'occhiata magari una volta sapete quando si va in vacanza in un posto che ci piace tanto e poi finiamo a curiosare sui siti dei gannunci immobiliari per immaginarci come vivendo lì sa che per esempio a San Francisco una stanza in affitto può costare anche più di 3000 dollari una stanza un monolocale almeno 4000 immaginate una casa diciamo normale un appartamento normale questi prezzi così alti non dipendono soltanto dal fatto che la città è molto piccola e c'è una bassa offerta di case per le persone che la abitano ma dipendono dal fatto che a un certo punto negli anni 70 nel libro racconto diciamo qual è stato il processo delle scelte delle persone che hanno portato a questa situazione la California abbia sostanzialmente smesso di costruire case e abbia utilizzato quindi il suo il suo suolo la sua superficie in un modo particolarmente inefficace le case californiane ci capita di vederle quando atterriamo magari a Los Angeles soprattutto ma anche a San Francisco sono in larghissima parte delle case monofamiliari o bifamiliari la classica casa da suburb americano con il prato inglese il vialetto la station wagon sul vialetto è un tipo di casa che gli americani hanno con la quale gli americani hanno sviluppato un rapporto culturale che va oltre diciamo il mercato immobiliare negli anni 60 negli anni 70 durante la guerra fredda quel tipo di stile di vita era identificato come lo stile di vita americano ed era anche identificato come l'esempio di come il capitalismo prevaleva sul comunismo perché in Unione Sovietica non avevano case come quelle le persone difendono questo modo di abitare come difendono un pezzo importante della loro cultura è chiaro che però non ci sono modi meno efficienti di quello per utilizzare la superficie che hai perché quello che vediamo quando atterriamo appunto quando ci muoviamo per queste periferie tutte uguali è il cosiddetto sprawl cioè questa distesa di case basse infinita che fa sì tra l'altro che poi per muoversi da un punto all'altro per raggiungere la città bisogna fare anche una o due ore di macchina al giorno e che però nei anni 70 non solo diventa questo simbolo ma viene anche malinteso da un primitivo movimento ambientalista come uno stile di vita immerso nella natura il fatto che avessero il prato il cane e fossero lontani dalle città li faceva difendere quella casa come quello stile di vita rispetto ad avere dei palazzini delle palazzine dei condomini come noi viviamo immersi nella natura non potete costruire ancora di più e questo ha reso nel tempo insostenibili ogni tipo di investimento nel trasporto pubblico perché quando hai una casa ogni chilometro questa metropolitana non si reggerà mai in piedi sul piano economico non converrà mai farlo la densità di popolazione in una città viene costruita anzi appositamente dai piani regolatori perché più le persone sono dense soprattutto nei pressi delle stazioni soprattutto nei posti dove ci sono molti uffici più è comodo e pratico spostarsi c'è un beneficio evidente sulla qualità della vita delle persone oltre che sulla produttività e la crescita economica ma la storia con cui apre il libro e che dimostra questa compressione pazzesca dell'offerta a fronte dell'aumento della domanda di case e di quello a cui ha portato è la storia di una casa che viene messa in vendita in una zona della Baia che si chiama Walnut Creek ed è una casa che viene messa in vendita a 850 mila dollari come prezzo di partenza il piccolo particolare è che questa casa non c'è più questa casa è bruciata durante un incendio e quindi le foto che mostrano anche questa casa di cui si è scritto parecchio negli Stati Uniti all'epoca mostrano questo cartello for sale col prezzo e dietro lo scheletro di una casa un relitto c'erano delle era una casa di legno quindi era rimasto in piedi di fatto soltanto la canna fumaria il caminetto il comignolo che sono le pochissime parti in muratura di queste case di legno e il resto c'erano delle travi un paio di pareti annerite si capiva che quella roba lì era una casa ma la casa di fatto non c'era la mettono in vendita a 850 mila dollari non era nemmeno prima dell'incendio una casa di particolare lusso e pregio e questa casa viene venduta nel giro di 5 giorni a un milione di dollari i giornali se ne occupano e raccontano questo esempio vanno tra le altre cose a intervistare l'agente immobiliare che ha curato questa compravendita e lui è anche stupito di tutte queste attenzioni e dice l'unica cosa strana è che c'è stato uno che ha offerto meno di 850 mila dollari perché in California le case si trattano al rialzo sempre a volte senza vederle si fanno delle offerte soltanto guardando i video delle case anche quando non ci sono quando letteralmente non ci sono e costano un milione di dollari pensate quanto quando ci sono e quanto possono costare con un aumento dei prezzi tale che non ha niente a che fare con l'attuale aumento dei prezzi con l'inflazione ma appunto comincia decenni fa che ha fatto perdere completamente la distinzione tra che cosa per esempio è un appartamento di lusso o una casa di lusso e che cosa non lo è perché San Francisco la peggiore delle topaie il seminterrato con tre letti senza finestre si affitta a prezzi da casa di lusso e se una casa bruciata costa un milione di dollari vuol dire che non esistono più le case a un prezzo abbordabile per la classe media e quando la classe media si trova a dover accettare di vivere nelle case popolari di fatto contate che in America in California scusate chi guadagna meno di 120 mila dollari l'anno è considerato a basso reddito e ha diritto ai sussidi 120 mila dollari l'anno quando la classe media va nelle case della classe operaia nelle case popolari la classe operaia come nel gioco delle sedie diciamo alle medie rimane in piedi rimane senza le case e quindi ha due possibilità la prima è trasferirsi molto lontano e quindi pagando di meno per questo e da lì sono appunto questa distesa urbana infinita e questo traffico pazzesco che chiunque sia stato in California e abbia guidato a San Francisco Los Angeles e dintorni conosce molto bene e poi un'altra cosa che è una di quelle cose problematiche della California che nota chiunque appena mette piede in California e ciò che non c'è un solo punto e un solo momento in cui nello spazio visivo di chiunque non ci sia almeno una persona che vive per strada una persona senza tetto è una crisi che ha dimensioni da crisi umanitaria che non è paragonabile a quella di qualsiasi altra città perché senza tetto poi ci sono dappertutto naturalmente ma tenete conto che un quarto di tutte le persone senza tetto degli Stati Uniti si trovano in California e per delle ragioni precise che poi vengono anche spesso equivocate quando mi capita di parlare di questo tema arriva poi sempre qualcuno che dice perché c'è bel tempo in California il tempo è mite quindi vivere per strada è più semplice e ora detto che se siete stati a San Francisco in estate sapete che il tempo non è mite non siete stati sfortunati voi che siete andati a luglio in agosto e ha piovuto tutta la settimana l'estate a San Francisco è così è la città con le temperature più basse in estate degli Stati Uniti le temperature massime ma poi non è mica quello l'unico posto d'America col clima mite se fosse quella la ragione ci sono addirittura delle leggende metropolitane che dicono per cui dagli altri stati darebbero alle persone senza tetto un biglietto di sola andata verso la California e quindi se questa fosse la soluzione diciamo probabilmente i californiani che avrebbero fatto un biglietto di ritorno di prima classe probabilmente qual è il problema invece è che un sistema in cui le case costano così tanto e in cui si perde la casa con grande facilità perché si viene sfrattati con grande facilità e l'affitto può crescere con grande facilità è davvero semplicissimo trovarsi per strada e sono persone senza tetto lontanissime dallo stereotipo delle persone senza tetto o dalle persone senza tetto delle nostre città per farvi un esempio tra tanti una parte significativa minoritaria ma significativa delle persone senza tetto lavorano lavorano a tempo pieno e se voi girate in macchina nelle prime ore della mattina tra le sette le 8 del mattino le vedete uscire dalle tende sotto i ponti vestite non come noi pensiamo si vestano debbano vestirsi le persone senza tetto ma vestite come noi pensiamo debbano vestirsi le persone che vanno in ufficio e vanno in ufficio e poi tornano a dormire in tenda l'università di Berkeley ha un parco accanto al plesso principale dell'università nel quale dormono moltissimi studenti sono studenti che studiano a Berkeley una delle più importanti prestigiose e anche care da frequentare l'università del mondo e dormono in un parco un'altra università ha preso un parcheggio del college e l'ha fatto diventare un parcheggio per chi dorme in macchina dei propri studenti per tenerli almeno protetti al sicuro dargli dei bagni il wifi una doccia ma questo è il contesto ed è un contesto in cui ci sono persone che diventano senza tetto a 60 anni a 70 anni dopo aver vissuto per tutta la vita in un contesto diciamo normale con una casa mangiando con il piatto sul tavolo è una crisi umanitaria anche perché poi non solo il sistema produce persone senza tetto per cui anche se domani la California costruisse delle case per tutte le persone che oggi sono per strada dal giorno successivo ce ne sarebbero altre ma poi non costruiscono le case per chi le vuole pagare milioni di dollari figuratevi se costruiscono le case le case popolari non le costruiscono perché se tu costruisci delle case aumentando l'offerta fai scendere i prezzi e quindi io che ho comprato casa a milioni e milioni non voglio certo che tu costruisca davanti a casa mia un condominio perché intanto scende il valore di casa mia secondo chi ci andrà ad abitare quindi le case popolari non si fanno c'è tutta un'intransigenza ideologica della California che è un'altra parte della storia in California governa con l'85% dei voti o quasi il partito democratico ed è un dominio assoluto che poi alle presidenziali scende un po' nelle città può arrivare anche al 90% ed è uno scenario in cui mi rendo conto è difficile immedesimarsi diciamo da noi il partito democratico che vince con il 90% le elezioni e vista l'aria che tira qualcuno potrebbe anche pensare che sia uno scenario tutto sommato confortante diciamo però al di là delle idee del partito democratico in parte quando un solo partito governa per decenni si produce inefficienza le macchine amministrative diventano ridondanti si creano molte rendite di posizione se non manca l'incentivo principale che poi fa lavorare a volte bene la politica e cioè che se no vincono quegli altri al massimo se non ti piace il sindaco del partito democratico della tua città ne arriverà un altro diverso del partito democratico con più o meno le stesse idee ma questa intransigenza ideologica il fatto che non si debba mai confrontare col consenso perché i repubblicani sono invotabili per i democratici e quindi tocca votare chiunque candidino i democratici porta anche a dei punti di dissonanza cognitiva quasi per cui i californiani tengono più alla saldezza dei propri principi che alla loro poi traduzione concreta per esempio la grandissima parte delle persone senza tetto in california passa la notte all'aperto non ci sono ricoveri notturni quando in realtà per esempio a new york soltanto il 5% delle persone senza tetto dorme all'aperto e sono le persone che preferiscono stare all'aperto ma ci sono ricoveri notturni per chiunque un po' gli ammessi la città un po' lo stato un po' le associazioni non profit il volontariato in california si oppongono nonostante poi fanno del mantra dell'inclusività diciamo dell'accoglienza dell'attenzione per i più deboli la loro stella polare si oppongono a costruire dei ricoveri notturni perché dicono le persone senza tetto hanno bisogno di case e non di ricoveri che per carità è vero però intanto non costruiscono né le case né i ricoveri e tutti vanno a dormire pensando che la colpa di questo problema sia di qualcun altro è diventato così grave questo problema e questo ci porta anche a un altro punto che non è più soltanto una crisi che puoi pensare di risolvere con più case perché vivere per strada cambia le persone in un modo per cui poi la casa non è l'unica soluzione poi naturalmente senza casa non vai da nessuna parte ma io ho frequentato mentre facevo ricerca per il libro un campo di senza tetto a sacramento guidato dalle persone che ci vivono che mi hanno raccontato le loro storie mi hanno fatto vedere dove vivono e mi hanno raccontato mostrandomelo poi anche con le loro storie come vivere per strada ti stravolga completamente perché ci si mette pochissimo a sviluppare dei problemi di salute mentale ma davvero poco perché per strada succede qualsiasi cosa e alle persone che vivono per strada accade qualsiasi cosa c'è chi ha visto la persona che dormiva nella tenda accanto bruciare viva quando gli è esploso la bomboletta del gas del fornelletto a gas c'è chi è stato accoltellato di notte c'è chi si è svegliato completamente derubato nudo privo di ogni cosa in inverno c'è la donna che è stata violentata una notte e quindi ha cominciato a prendere le metanfetamine per restare sveglia diventando dipendente dalle metanfetamine basta poco tempo per strada per cambiare le persone che si ritrovano a fare cose che avevano giurato che non avrebbero mai fatto prima quando erano finite per strada la prima volta non dura molto il momento in cui continuano ad andare a lavorare eppure questa miseria che poi le città hanno spinto in alcuni quartieri che sono dei quartieri inavvicinabili per le persone residenti che li conoscono in cui a volte i turisti si imbattono il tenderloin a San Francisco o ski draw a Los Angeles è come una pagina un elemento che tanti californiani si rifiutano di vedere lo si vede nel comportamento concreto a volte diciamo le persone ti parlano quando sono persone senza detto i loro interlocutori non si girano non li ascoltano come se non esistessero nel fatto che a volte devono scavalcarle sui marciapiedi nel fatto che a volte alcune particolarmente privilegiate e ricche ne ignorano persino all'esistenza qualche anno fa forse un paio d'anni fa era capitato a una delle Kardashian adesso non ricordo chi se Kim o Kendall che girando in macchina per Los Angeles erano finite per sbaglio a ski draw ski draw sono sei strade che si incrociano dietro downtown quindi in pieno centro di Los Angeles che sono una specie di campo profughi a cielo aperto una tendopoli un'enorme gigantesca tendopoli nessuno passa di lì se non devi andare lì e nessuno va lì almeno che non sia una persona senza petto lei ci capitò evidentemente per caso non sapeva che esisteva quel posto nella città in cui vive ed è un posto su cui sono stati fatti i documentari scritti libri se cercate su YouTube ski draw Los Angeles si è trovato una gran quantità di video terrificanti ed era sorpresa scandalizzata dal fatto che questa cosa si stia avvenendo a casa sua e la sorpresa e lo scandalo in chi osservava quei contenuti sui social era come fai a non sapere che esiste questa cosa dietro l'angolo e questa rimozione del problema è comune a molte altre questioni californiane un po' perché poi le persone che stanno bene in California perché se lo possono permettere sono tante la California comunque avendo questo tipo di economia così forte ha anche una grande popolazione molto benestante San Francisco è la terza città al mondo per numero di residenti miliardari quindi poi le persone che stanno bene ci sono ma bisogna stare molto 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 bene per potersi permettere quel tipo di vita e questo produce delle conseguenze che tra le altre cose aggravano le differenze e le diseguaglianze razziali etniche in una società come quella americana San Francisco per esempio è uno dei pochissimi posti in America che diventa più bianco ogni giorno che passa e non meno perché le persone che soffrono di più sono quelle in condizioni economiche più precarie e sono in maggioranza persone afroamericane o latinoamericane ma qualcosa del genere si è visto anche con la scuola e poi interrompo diciamo che mi sa che sono stato già lungo con la scuola che è diventato il campo di battaglia principale della politica americana e ne sentiremo parlare racconto nel libro perché è un altro di quei problemi che secondo me per quanto Italia e California siano straordinariamente diverse ci parla e ci dice qualcosa anche delle nostre situazioni e dei nostri problemi il sistema scolastico californiano diciamo se sulla base sul piano universitario ha alcune tra le migliori università al mondo sul piano della scuola media la scuola superiore la scuola pubblica non se la passa benissimo nonostante investano moltissimi soldi se guardate le classifiche che costruiscono gli americani su qualsiasi cosa quindi anche sulla scuola sta più o meno a metà classifica quando è iniziata la pandemia la reazione delle scuole californiane è stata come quella di grandissima parte del mondo dell'occidente chiudere le scuole poi però la California ha proseguito a tenere le scuole chiuse portando avanti una politica che potremmo definire italiana diciamo perché sapete che l'Italia è stato il paese europeo che ha tenuto chiuse le scuole per più tempo più della Germania della Francia della Spagna insomma dei paesi con cui ci piace paragonarci di solito ed è stata una scelta politica non era inevitabile che andasse così abbiamo scelto a un certo punto di aprire i ristoranti a un certo punto i bar prima delle scuole i negozi prima delle scuole la California ha fatto la stessa cosa in un contesto in cui però il resto dell'America ha riaperto molto più in fretta soprattutto le scuole e in un contesto in cui vi ricordate vi dicevo un attimo fa i prezzi delle case le case sono minuscole i genitori sono dovuti convivere con i bambini seguirli mentre facevano scuola a volte vivendo in una stanza in due stanze racconta la storia di una famiglia che vivono in quattro persone dentro una stanza dentro cui cucinano dentro cui dormono e dentro cui studiavano i bambini nel corso dei vari lockdown la California ha tenuto le scuole chiuse così a lungo che poi nelle varie misurazioni sulla preparazione degli studenti si è visto un crollo della preparazione per esempio in materie come l'inglese la letteratura inglese la lettura la matematica ed è un crollo che peraltro ha coinvolto soprattutto le persone gli studenti non bianchi perché vengono dalle famiglie meno agiate le famiglie un po' più ricche avevano integrato durante i due mesi l'istruzione degli propri figli con delle lezioni private gli altri invece erano rimasti al palo e cosa è successo poi nella grande battaglia politica che ne è nata che a San Francisco hanno indetto un referendum per cacciare le tre persone responsabili del distretto scolastico che avevano scelto per questa politica e benché a San Francisco i democratici vincano appunto con l'ottante per cento e passa dei voti e queste tre persone fossero state elette a larghissima maggioranza e fossero ovviamente del partito democratico questo referendum stravince questo referendum passa e le tre persone vengono rimosse dal distretto scolastico è capitato anche con l'attorni general e il procuratore di San Francisco qualche tempo fa dove voglio arrivare la cosa che cerco di ricostruire nel libro per come io l'ho capita è che molti di questi problemi della California e di inefficienza che hanno fatto sì che la California diventasse vittima del suo stesso successo per cui per ogni cosa andata bene poi si aprono delle cose da sistemare la California però ha fatto meno di governare le conseguenze di questo successo si creano una serie di contraddizioni quando governa un solo partito e ha un potere di fatto assoluto e non può temere di perdere il potere che smettono di far funzionare la democrazia in buona costanza perché di fatto le vere elezioni diventano le primarie perché tutto si gioca dentro il partito democratico e se tutto si gioca dentro un solo partito e non devi mai cercare di convincere chi sta dall'altra parte o chi è indeciso diventa una gara a chi è più puro sul piano ideologico diventa una gara a chi ti garantisce una perfettissima e ortodossa aderenza a quali che sono i principi più in voga del momento senza dover mai misurare quei principi con la realtà io avrei potuto scrivere questo libro parlando del partito repubblicano in Tennessee o in Oklahoma e il fenomeno è uguale dove il partito repubblicano governa con queste ampie maggioranze produce una classe dirigente molto più radicale della popolazione stessa che poi porta a conseguenze in ultima istanza come le nomine di certi giudici che alla fine decidono che non esiste più il diritto ad abortire negli Stati Uniti e questa radicalizzazione che avviene a partire da una minoranza nel sistema politico americano produce delle conseguenze su questo tipo di dimensioni è quello che accade in California pure però se facevo un libro sull'Oklahoma e lo intitolavo Oklahoma voi non ve lo compravate e quindi ho deciso di farlo sulla California perché a parte gli scherzi la frase che apre il libro è una frase di Jimmy Carter tutto quello che accade in California sfortunatamente ha la tendenza a capitare anche altrove e per questo appunto spero che possa essere utile come racconto e come storia di quello che accade dall'altra parte del mondo ed è una parte del mondo che poi frequentiamo spesso ma anche magari per capire qualcosa in più su di noi e su quello che accade nelle nostre città parlavamo prima di caro vita caro immobili per esempio è un tema attualissimo in tantissime città della Lombardia per esempio vi ringrazio grazie veramente grazie bravo Francesco e anche la storia della California sapere queste cose di vedere in Italia nel primo periodo è importante penso che se la regia penso che Rudy Bianchi abbia sentito tutto questo e si possa collegare è vero? o no? ti vediamo e ti sentiamo forte e chiaro mi sa ciao buonasera 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 ciao Francesco ciao bambi mi sentite bene? si sentiamo bene volevo solo presentarti allora 40 anni che vivi negli Stati Uniti prima New York poi Los Angeles imprenditore dirigente d'azienda e dirigente sportivo già general manager di una squadra di calcio femminile professionista di Los Angeles appassionato fotografo e collezionista di fotografia d'arte ok ho detto troppe cose ecco va bene beh prima di tutto grazie a tutti grazie di avermi incluso in questa cosa io non sono un professionista non sono un giornalista come Francesco l'unica mio merito è che vivo qua da tanti anni non so se ho un merito vivo qua da anni e sono il fratello dell'organizzatrice se no non ho nessun non ho nessun merito di fatto di essere quasi altro che la mia esperienza di essere venuto qui tanti anni fa prima a New York per due o tre anni poi sono stato uno o due anni a Sacramento è strano che tu Francesco hai parlato dell'homeless campo di Sacramento e poi dopo da Sacramento a Los Angeles dall'85 fisso a Los Angeles mi sono ritrovato molto nelle cose che hai detto chiaramente subito l'ultima cosa che hai parlato è della scuola e se posso fare una piccola cosa io ho un figlio che è andato a una scuola pubblica e due nipoti che vanno alle scuole private io sono stato coach di calcio delle scuole pubbliche e delle scuole private e stiamo parlando sempre di middle school e high school cioè le medie e il liceo e la differenza è incredibile tra la preparazione culturale tra l'Italia e l'America cioè quando io sento genitori che dicono mando il mio figlio a fare un anno di liceo in Italia in America io dico sempre tornerà un bravo sportivo perché dello sport hanno tutti i campi eccetera ma un ignorante pazzesco infatti dopo tre mesi mi telefonano e mi dicono i genitori mi dicono ma mio figlio qua in Italia ero un asino è il primo della classe là in America senza neanche saper bene l'inglese è vero c'è una cosa purtroppo l'educazione l'education qua in America è molto difficile da ricevere sia a livello privato che a livello pubblico la differenza è che a livello privato paghi tantissimo ma purtroppo i bambini non imparano lo stesso ed è dovuto a tantissimi fattori però non stiamo qui a parlarne però mi ritrovo molto in questa cosa della scuola che la scuola purtroppo la cosa poi più danneggiante per la scuola è che come tu scrivi nel tuo libro la scuola i bambini vanno i ragazzi vanno vanno loro dai professori non hanno una classe fissa proprio ieri ho incontrato un ragazzo al gym e gli ho detto ma tu sei graduato a Paria io vivo in un paese che si chiama Passivi Palisades che è tra Santa Monica e Malibu e lui ho detto sì sono graduato nel 2000 ma allora conosci mio figlio e lui mi ha detto guarda che la nostra classe era 900 la nostra classe era 900 persone e lì la cosa è una cosa pazzesca che essendo una classe di 900 persone loro non si trovano mai mentre i ragazzi al liceo vanno avanti bene o male con una classe di 30 persone questi 900 sono sempre in giro e vanno da classe a classe da tutore a tutore e non aggregano mai tra loro e lì per me è una delle cose più dammeggianti della scuola americana è questa situazione qua non hanno classi ma hanno una classe unica che è quella che sono nati nel 1983 per esempio sono tutti insieme e girano per varie classi e non si aggregano mai in effetti per me questa è una delle cose principali il bambino americano o il ragazzo americano ha difficoltà a esprimersi e a avere amicizia perché si è sempre così in giro tra l'altro molti emigrano perciò non stanno nella stessa classe molti cambiano casa vanno in un altro paese eccetera perciò quello che c'è in Italia che è un'aggregazione che parte dalla scuola qui non esiste per me è un danno psicologico incredibile io a Milano ho un piccolo appartamento sopra una una scuola di Milano famosa che si chiama liceo Parini e proprio adesso quando ero lì a luglio o a giugno una mattina mi sono alzato e c'era un rumore pazzesco quello che è successo e erano i ragazzi che andavano a scuola e c'era un rumore di parlare che era bellissimo era stupendo io abito vicino a Pali High che è Pali Sed High e li vedo andare non parlano mai sono tutti uno per uno da solo eccetera una cosa adesso stiamo stiamo svariando un po' su questa cosa ma purtroppo questo incide moltissimo nella formazione del ragazzo questa solitudine incredibile questa scuola sbagliata e questo è un errore dove loro dove loro congregano è nel football team nel soccer team nel baseball team ma sai chi è che who's gonna meet chi è che entra nel baseball team sono 20 30 10 15 non è che sono 900 perciò ci sono fatte delle bolle di aggregazione attraverso lo sport racconto parecchio anche come funziona proprio la scuola americana oggi qualcuno su Instagram mi ha scritto che è un ottimo tutorial per le serie team americane perché spiego cos'è il sophomore year il senior year le varie differenze diciamo cos'è il kindergarten cos'è il pre-k come funziona la scuola americana e una delle cose che noi sappiamo della scuola è proprio quella che raccontava Rudy poco fa perché la vediamo appunto nei prodotti di intrattenimento americani il fatto che ci sia la classe di algebra la classe di inglese e non ci sia la terza c con i professori che girano e quindi i ragazzi si spostano da una classe all'altra secondo la materia che stanno frequentando ma c'è un'altra cosa che invece passa molto meno nei prodotti di intrattenimento ma è gigantesca nel determinare poi la struttura della scuola americana ed è tra l'altro una cosa che si fa anche in tanti altri paesi europei si fa anche in tanti paesi europei si fa in Germania si fa nei paesi bassi un sistema che viene un sistema che viene chiamato tracking in sostanza la preparazione degli studenti viene costantemente misurata anche perché come vi dicevo gli americani misurano ossessivamente qualsiasi cosa e sulla base di come gli studenti si posizionano vengono inseriti in delle classi per esempio di algebra che sono misurate sulla loro preparazione questo vuol dire che non c'è una sola classe di algebra ma c'è l'algebra basic c'è l'algebra a livello medio c'è l'algebra a livello alto c'è l'algebra college prep che è quella che ti prepara poi davvero a entrare al college e non è che si può passare da un track all'altro diciamo da un livello di difficoltà all'altro ma è piuttosto raro diciamo generalmente tu fai questi test all'inizio dell'anno ti dicono che sei da 6 o da 5 e mezzo e ti mettono in una classe con altre persone del tuo stesso livello l'idea alla base di questo sistema è che delle classi con delle persone di preparazione omogenea siano delle classi in cui è più facile insegnare qualcosa ed effettivamente io ho letto anche tutti gli studi che poi cercano di arrivare a una conclusione di quale sia il sistema migliore ci sono degli studi che mostrano come su chi è da bravino in su stare in una classe con delle persone di simile preparazione è molto premiante insomma li fa diventare molto più bravi li prepara molto meglio all'università ci sono però degli altri studi che mostrano come dire a un ragazzino tu sei da 5 e sarai nella classe con quelli da 5 lo convince che è effettivamente da 5 e insomma se ti dicono che non sei abbastanza bravo poi tendi a crederci e le persone che invece finiscono indietro non fanno molta più fatica a tornare avanti in questo se volete c'è molto anche del del darwinismo sociale un po' che sta alla base del capitalismo americano e che in parte è la sua fortuna e la sua condanna allo stesso tempo ma tornando al discorso sulle conseguenze della pandemia quando è venuto fuori per esempio che nella matematica le competenze degli studenti erano precipitate durante gli anni i due anni di fatto di didattica a distanza e si è visto che gli studenti afroamericani e latinoamericani avevano problemi addirittura più gravi degli altri in conseguenza di questo deficit nella didattica la proposta di alcuni distretti scolastici è stata forse dovremmo abolire del tutto i voti forse dovremmo rinunciare all'idea che i voti siano uno strumento utile a misurare la preparazione degli studenti che da una parte siamo a un discorso che se lo vogliamo affrontare in modo alto sul fatto che i voti siano attuali o no che siano utili o no ha senso ha senso farlo quantomeno portarlo con degli esperti con delle persone competenti se vogliamo discutere di questo sistema del tracking allo stesso tempo ha senso farlo e questo sistema ha più benefici o più rischi ha più vantaggi o più svantaggi e per chi però quando tu hai osservi dei dati e vedi che gli afroamericani gli studenti afroamericani sono peggiorati in matematica molto più degli altri e la soluzione a questo problema che ti viene in mente è forse smettiamo di misurare la preparazione così abbiamo risolto abbiamo creato una sorta di uguaglianza non è una vera soluzione ed è un esempio di quella dissonanza cognitiva di cui parlavo piuttosto che dire c'è un problema strutturale qui le scuole poi riflettono naturalmente anche la la composizione demografica economica etnica dei quartieri in cui sorgono anche in Italia per quanto non abbiamo il tracking abbiamo le scuole che hanno una buona fama e quelle che hanno una peggiore fama le sezioni che hanno una migliore fama con degli studenti di solito più preparati e delle sezioni più difficili quindi poi anche senza tracking queste differenze esistono ma piuttosto che dire interveniamo e risolviamo i problemi strutturali che fanno sì che gli afroamericani abbiano sofferto per esempio più degli altri la didattica a distanza si dice aboliamo i voti questo abbiamo fatto una cosa molto di sinistra siamo sulla carta e abbiamo rimosso il problema del perché la nostra scuola non fornisce lo stesso servizio a tutte le persone ma di fatto le discrimina sulla base dell'etnia e così facendo la polvere sotto il tappeto però si va accumulando e prima Rudy parlava della differenza tra scuole pubbliche e scuole private e una cosa che è successa durante questi ultimi due anni è che il sistema scolastico californiano ha perso milioni di studenti che sono passati dalle scuole pubbliche a quelle private perché quelle private potevano restare aperte ogni scuola poteva decidere cosa fare le scuole avevano deciso di tenere chiuso nessuno le obbligava a stare aperte le scuole private stavano aperte e il sistema scolastico californiano ha avuto un'emorragia di studenti naturalmente di quali studenti di quelli che possono andare nelle scuole private quindi che possono permetterseli e quindi vediamo come anche in uno stato che investe tantissimo che ha tante risorse che ha un'economia che cresce e che non ha tanti problemi che hanno altri stati che pensa come dovrebbero fare allora quelli che hanno la deindustrializzazione la disoccupazione eccetera eppure non riesce a usare questo successo economico per portare una qualità della vita migliore a tutte le sue persone dalla scuola si potrebbe parlare di un sacco di altre questioni ma volevo chiederti Rudy visto che poi tu hai visto soprattutto a Los Angeles com'è la in California com'è la situazione com'è la vita a Los Angeles che è un posto particolarmente complicato da capire per noi europei io nel libro dedico un intero capitolo a Los Angeles perché la mia esperienza di quando sono arrivato la prima volta non ho capito nemmeno dove dovevo andare cioè New York ti accoglie è una città molto complessa New York ma ti mette davanti subito le strade che conosci i posti che riconosci a questa pianta per cui è impossibile perdersi le strade sono orizzontali verticali numerate anche io che mi perdo anche per andare in bagno dalla camera da letto perché non ho senso dell'orientamento a New York non mi perdo arrivi a Los Angeles è quasi un centro non c'è per andare da un punto all'altro volte devi guidare per due ore passi del tempo in questi luoghi che sono pieni di storia ma di cui non sempre si vede immediatamente la bellezza strade e cemento strade e cemento com'è stata la tua esperienza di trasferimento e poi di vita a Los Angeles allora io ti dico subito che il mio trauma da Milano a New York è stato infinitivamente più piccolo del trauma New York Los Angeles cioè io andavo da Milano che ho vissuto trent'anni in una città come New York si è diverso parla una lingua differente che non lo sapevo però invece New York Los Angeles è stato un trauma pazzesco e se adesso io sono esattamente dal primo gennaio dell'85 che vivo fisso qua chiaramente vengo in Italia una volta all'anno certe volte non sono anche venuto però questa è la mia casa e se posso dirti io non ci ho ancora capito niente nel senso che è talmente estesa è una città che non ti respinge ma è indifferente questa è una cosa che ti posso dire dopo che ho chiesto in giro a altre persone ho detto ma tu come la definiresti e poi ho sentito questa cosa che mi è venuta ho detto non ti respinge sì Los Angeles non ti respinge perché siamo tu sai bene che 20 più più milioni di persone di cui 10 milioni sono latino e perciò bene o male tutti hanno trovato un loro una loro possibilità di vivere qua a Los Angeles ma è talmente grande non ha centri è come se io per esempio vivo in un piccolo paese che si chiama Passivi Palace che ho detto come tra Santa Monica e Malibu ed è un paesino piccolo di così a Los Angeles ce ne sono centomila e finisce che questa area qua è fatta di tanti paesini di tanti piccoli paesini che è difficile da capire sono difficili da capire l'estensione è incredibile vari da una socializzazione che è altamente latina in certi posti poi bianca completamente in altri posti certe volte è mixed certe volte è black certe volte è cinese ed è un'estensione talmente grande che non riesci a trovare bene o male il bandolo della matazza quando io certe volte vengo in Italia e trovo degli italiani sull'aere mi dice ma tu vivi a Los Angeles e loro dopo tre giorni che sono stati a Los Angeles hanno detto a me a Los Angeles non piace becato te che capisci perché io non posso dirti se ancora se mi piace no chiaramente dove vivo io c'è il mare c'è la cosa è più bello che se vivessi a Downey o a Cerritos ho capito però anche queste piccole cittadine hanno un loro perché hanno le loro etnie hanno le loro però è molto difficile da capire per noi italiani mentre andiamo a San Francisco a New York come tu dici è capibile anche San Francisco è un po' come New York qui non c'è la piazza non c'è ci sono tante piccole piazzette magari in tanti piccoli posti non ci sono punti di aggregazione il punto di aggregazione è la freeway dove tu sei con altre sei macchine davanti a te e sei macchine di fianco e questo è l'unica punto di aggregazione è una città abbastanza alienante devo dire cioè non posso dire l'italiano che viene qua vede magari sta a Santa Monica vede la bellezza della Baia eccetera ma anche questa non è poi così diciamo dopo i primi due anni che vivi questa cosa anche questa capisci che è diverso il mare per esempio io quando vengo in Italia al mare sento il mare sento l'odore del mare sento il mare arrivo ogni volta che vedo il mare il mare io ogni mattina vado a camminare sulla spiaggia dove hanno shoot Baywatch dove fanno ancora i film sempre eccetera e sì è bello ma non è non so come dirti è come se fosse quasi di plastica la cosa capito che è molto è molto bella per il turista è molto bello per i primi 3-4 anni che sono stato qua dicevo cavolo meglio di così cosa vuoi c'è una città posso andare a Martigione c'è la montagna dietro ma poi però è questa mancanza di aggregazione la senti pazzesca tu hai un po' di nostalgia dell'Italia mi pare di capire sì io ho nostalgia della bellezza italiana che è una bellezza una bellezza all'opposto è aggregante cioè mentre la bellezza americana quando voi venite qua andate a vedere i parchi eccetera è una cosa meravigliosa ma non è aggregante non c'è non c'è storia io sono andato adesso sono venuto appena in Italia e sono andato a Siena dove medioevale eccetera da lì c'è la storia poi trovi anche la storia del romano e da lì c'è la storia ma la storia fatta da uomini dove esiste qualcosa che tu senti dove tu sei in una piazza dove hai sentito che sono stati questi 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 e poi però adesso c'è il bar dove l'uomo del bar ti parla con l'accento senese e ti fa sentire che sei parte di qualcosa questa è una cosa che mi manca incredibilmente è chiaro che qui è più facile vivere è più facile se hai la fortuna di avere un po' di successo stai bene non c'è problema nel parte dove vivo io non esistono homeless cioè è una situazione molto però sono chiaramente io posso parlare di una persona diciamo che vive in un posto elitario e perciò non posso dare questa però io nella mia vita ho lavorato nelle costruzioni perciò sono stato sui tetti dove dove lavorano gli uomini dei tetti non ho mai visto un bianco in vita mia che lavora nelle costruzioni come non ho mai visto un bianco che lavora nel gardening nel fare il giardino o ne lavora nei ristoranti io nella mia vita ho avuto ristoranti e sono sempre stato con queste persone non è che perché vivo a Passivi Palace sono diviso perciò posso sono abbastanza atipico posso sentire il cuore dell'America come è veramente cioè che è fatto di questo melting pot incredibile che però trova l'aggregazione all'interno di piccoli nuclei perciò il il mio giardiniere messicano vive in un posto che ha attorno la sua famiglia messicana ma non aggrega solo in quello capisci come esce è un outside sì è vero che è una tra l'altro delle ragioni per cui poi prima parlavamo delle persone senza tetto noi siamo abitati a pensare che se qualcuno finisce per strada gli siano andate male nella vita una gran quantità di cose e quella sia l'ultima l'ultimo passo è quando perdi anche la casa quando invece negli Stati Uniti questo succede con maggiore facilità anche perché ci sono delle reti sociali e familiari che sono molto più larghe molto meno fitte rispetto a quelle che conosciamo noi e quindi il numero di persone che se tu finisci senza casa ti possono dare una mano è un numero molto più ridotto molto più piccolo è anche uno Stato gli Stati Uniti sono anche una nazione in cui ci si sposta con grande facilità si traslonda con grande facilità si va via di casa molto presto ed è molto normale andare via di casa e quindi avere i genitori la famiglia gli amici molto lontani ma c'erano altre due cose che mi hanno fatto venire in mente le storie che raccontavi una rispetto al rapporto con la storia naturalmente negli Stati Uniti le cose più vecchie diciamo costruite dalle persone occidentali sono per noi relativamente recenti diciamo noi siamo abituati ad essere circondati da cultura da arte da storia da edifici che hanno una età molto più avanzata dell'età della nazione statunitense eppure poi questi posti hanno comunque una loro storia e a volte sono anche delle storie che riguardano per esempio gli italiani che si sono trasferiti in California nel novecento e ne racconto una su San Francisco che ha al centro un personaggio italiano che si chiama Amadeo Giannini che adesso io qui compresso la mia ignoranza voi sono sicuro lo conoscesse tutti quanti lo conoscete tutti quanti io non l'avevo mai sentito nominare e mi ha stupito poi trovare la storia di Amadeo Giannini su fonti americane e non su fonti italiane non penso che la sua storia vada studiata a scuola adesso ve la racconto però una fiction della RAI che non si nega a nessuno su Amadeo Giannini io l'avrei fatto perché quest'uomo all'inizio del novecento San Francisco è una città popolata dai cercatori d'oro hanno trovato l'oro a un certo punto alla fine dell'ottocento arrivano persone l'oro e trovare l'oro lì è un'economia molto improvvisata in un posto piccolissimo San Francisco è grande esattamente quanto Siena in termini di superficie prima Rudy citava Siena era il far west come da stereotipo era l'inizio del novecento estremo ovest c'erano i saloon c'erano i cercatori d'oro c'era il gioco d'azzardo c'era la prostituzione non c'era l'autorità non c'era lo stato c'era qualche sceriffo ma c'erano anche moltissimi banditi si cercava di diventare ricchi in fretta e di investire quei soldi in qualche altro modo arriva all'inizio del novecento un grosso terremoto che distrugge una parte significativa degli edifici ma non solo fa un altro danno molto grosso in questa società che si stava costruendo anche in modo appunto molto disordinato e disorganizzato c'erano delle prime primitive condutture che portavano l'acqua a San Francisco e portavano il gas a San Francisco e queste condutture vengono distrutte dalla scossa e dalle conseguenze della scossa dai crolli e quindi San Francisco non solo si ritrova a essere semidistrutta ma si sviluppano tantissimi incendi che bruciano anche una gran parte di quel poco che era rimasto in piedi e le condutture dell'acqua si sono rotte per cui non c'è modo di spegnere questi incendi in modo efficiente cosa succede lì? Questa è una città che stava diventando molto ricca era già molto ricca che stava crescendo tantissimo appena la terra ha smesso di tremare e gli edifici smettono di bruciare chiunque avesse dei soldi dei capitali voleva subito rimettersi in pista ricostruire ricomprare il macchinario che era stato distrutto i soldi ce li avevano volevano subito rimettersi in pista vi dicevo i soldi ce li avevano ce li avevano in banca e all'epoca i soldi come è ovvio non erano dei numerini digitali ma erano dei pezzi di carta cioè finché hai il pezzo di carta hai i soldi se non hai più il pezzo di carta non hai più i soldi e questi soldi questi pezzi di carta erano dentro le casseforti questi vanno in banca subito appena si spengono le fiamme per ritirare i soldi e ricomprare e ricostruire e i proprietari delle banche i bancari gli dicono fermi tutti noi queste casseforti non possiamo aprirle chi di voi ha letto si ricorda Fahrenheit 451 avrà intuito il motivo oltre a una certa temperatura la carta brucia a contatto con l'ossigeno senza una scintilla quindi se avessero aperto quelle casseforti incandescenti avrebbero bruciato tutto il contenuto e quindi nessuna banca può aprire le casseforti nessuno ha i soldi per comprare quello che serve per ricostruire c'è un solo banchiere della città che ha avuto un'idea che è un italiano che si chiama Amadeo Giannini un ligure che è arrivato in California un ligure non a caso ma no ma una persona evidentemente di un'intelligenza che poi a noi piace riconoscere in questa intelligenza in questo intuito anzi un intuito molto italiano lui era arrivato lì e si era sposato con un'altra ragazza anche lei originaria della Liguria il cui padre aveva una serie di proprietà immobiliari e lui aveva capito gestendo lavorando nell'azienda di famiglia del suocero che il settore bancario che all'epoca si rivolgeva soltanto ai ricchi proprietari agli imprenditori e non agli operai poteva essere utile anche agli operai e si poteva immaginare un'offerta bancaria di un conto corrente anche per gli operai e le persone che lavoravano in miniera e quindi lui si mise in testa di fondare una banca per gli immigrati italiani che chiamò Bank of Italy e passava le sere a bussare alle porte di questi operai stanchi morti dopo una giornata in miniera cercando di convincerli che poteva essere utile per loro mettere dei soldi in banca che lui poteva dargli un prestito e insomma inventò in pratica viene considerato una specie di inventore del moderno sistema bancario fu il primo a proporre la vendita a rate fu il primo a usare la pubblicità e quando capisce che stanno bruciando le banche e le cassaforti non si potranno più aprire fa caricare in gran fretta le sue cassaforti e dei sacchi pieni di monete ma sembravano dei sacchi dei rifiuti su un carretto che trasportava rifiuti di un suo amico e scappano fuori dalla città con tutti i rischi che questo comportava perché appunto vi ricordo era il far west c'erano i banditi questi viaggiavano pieni di soldi con questo carretto che camuffati dai rifiuti trovano un saloon fuori dalla città pagano il proprietario del saloon creano una sorta di filiale improvvisata si sparge rapidamente la voce che la Bank of Italy è l'unica banca che eroga prestiti a San Francisco arrivano tutti a mettersi in coda per parlare con Amadeo Giannini che eroga prestiti a chiunque con una sola stretta di mano e lui in pratica fa partire la ricostruzione di San Francisco fa una barca di soldi tant'è che poi il Golden Gate la costruzione del Golden Gate l'ha finanziata lui fu il primo a finanziare Walt Disney la produzione di Biancaneve e Sette Nani che all'epoca insomma incontrò tantissime difficoltà i soldi gli li diede Amadeo Giannini e a un certo punto entra con la sua Bank of Italy dentro la Bank of America e si compra la Bank of America insomma è una storia ripeto forse non da studiare sui libri di storia ma almeno una fiction della Rai almeno conoscerla la racconto nel libro con qualche altro dettaglio e così come racconto un'altra cosa una serie di altre cose su Los Angeles perché la cosa che raccontavi io mi ci riconosco parecchio credo anche di aver fatto a un certo punto una puntata di Da Costa a Costa il mio vecchio podcast sugli Stati Uniti su Los Angeles era una delle prime volte che ci andavo e credo di aver detto che l'avevo trovata brutta ora Los Angeles non è una bella città come potrebbe essere Bella Siena cioè quelle belle città diciamo su canoni europei oggi penso che sia un posto fantastico da turista da persona che va lì e spende lì due settimane tre settimane mi sembra uno dei posti più belli del mondo perché c'è qualsiasi cosa ma richiede un po' di tempo per essere scoperta per essere sbloccata pezzo per pezzo ho scoperto Boyle Heights che è il quartiere delle persone latinoamericane che è un quartiere bellissimo ho scoperto Hermosa Beach che è la spiaggia dove c'è il molo della scena di La La Land con Ryan Gosling che balla sul molo è un posto meraviglioso però sono posti che stanno a due o tre ore di distanza di macchina l'uno dall'altro perché Los Angeles l'area metropolitana come diceva Rudy è grande quanto la Campania per capirci cioè è una regione è una specie di città-stato è un'altra cosa che racconto su Los Angeles è come poi da quelle parti costruire questa città sia stato anche una sorta di capolavoro ingegneristico perché non c'è l'acqua e l'acqua la fanno arrivare dalle montagne della Sierra Nevada con un acquedotto che è un insomma di cui i Los Angelini si sono vantati per decenni costruito da questo ingegnere Mulholland venerato ancora in città tanto che appunto quello della famosa Mulholland Drive era anche un uomo di un certo spirito quando inaugurano questo acquedotto pazzesco Joan Didion ha scritto un saggio soltanto sul miracolo del percorso che faceva l'acqua prima di arrivare nel suo urbinetto di casa lui fa questo discorso in cui inaugurano l'acquedotto Mulholland arriva e dice è pronto usatelo e se ne va ma l'acqua è un grosso pezzo dello sviluppo di Los Angeles è stato un grosso pezzo dello sviluppo di Los Angeles e oggi è un grosso pezzo della minaccia su Los Angeles e sulla California perché la California sta attraversando come se non bastassero diciamo tutte le cose che abbiamo già parlato una delle siccità più gravi da secoli a questa parte con grosse conseguenze sull'agricoltura con grosse conseguenze sui consumi domestici che loro hanno a San Francisco i consumi d'acqua sono razionati per cui ogni famiglia sa che deve consumare il 10% in meno di acqua dell'anno prima se no ci sono delle penali che paghi e ci sono anche delle conseguenze che non toccano le persone ma toccano gli ecosistemi gli animali per esempio e di cui i californiani tentano di occuparsi con uno spirito californiano racconto questa storia e poi ti ripasso la parola perché vorrei chiederti una cosa sugli incendi soprattutto ma parlando della siccità c'è questa storia per me meravigliosa nel suo essere ovviamente una storia tragica anche che riguarda i salmoni io sono diventato non esperto di salmoni quindi se sono esperti di salmoni tra voi perdonatemi le semplificazioni ma i salmoni quando fanno i puccioli di salmone si chiamano avannotti ho studiato i salmoncini li vanno a deporre le uova dei salmoncini nell'alto corso dei fiumi quindi risalgono fino alle montagne li depongono le uova nascono i nostri amici salmoncini che poi quando diventano grandi abbastanza percorrono i fiumi scendono giù per la montagna e raggiungono l'estuario e questo è il ciclo di vita diciamo base dei salmoni ci sono tra l'altro molte specie di salmoni che sono in via di estinzione in California quindi sono anche monitorate con grande attenzione questo percorso i nostri amici salmoncini lo possono fare finché c'è acqua nei fiumi perché se non c'è più acqua nei fiumi i salmoni restano bloccati restano bloccati lassù a un certo punto lassù non trovano più il cibo che gli serve una volta che sono cresciuti per vivere quindi muoiono e allora la soluzione californiana a fronte diciamo di questa crisi che non è facilissima da risolvere perché se i fiumi sono in secca lo sappiamo perché capita anche da noi non ci sono soluzioni a breve termine cosa fanno? Prendono decine e decine e decine di autobotti credo l'ultimo anno se non sarebbe più di 150 vanno su fino all'alto corso dei fiumi caricano dentro le autobotti l'acqua del fiume con i salmoncini dentro e danno di fatto un passaggio ai salmoni portandoli in autostrada in mezzo al traffico su questi autobotti incolonnate fino all'oceano che è una classica soluzione californiana cioè spegniamo un sacco di soldi per fare una roba difficilissima quando forse ci avessimo pensato un po' prima diciamo questa soluzione la potremmo anche questa cosa la potremmo risolvere con delle soluzioni più semplici ma dimostra anche quanto sia poi pressante emergenziale da quelle parti la minaccia della crisi climatica ricorderete immagino le fotografie del 2020 di San Francisco col cielo arancione dopo quel grossissimo incendio sono incendi che in California si estendono su superfici grandi io ogni volta cerco dei termini di paragone per far capire quanto sono grandi e uno di questi ultimi molto grossi era grande due volte la città di Roma Roma è grande tipo dieci volte Milano due volte la città di Roma un incendi che bruciano per mesi e che sono così grandi e così vasti che generano dei fenomeni che vanno oltre le semplici fiamme questa è un'altra cosa di cui sono diventato parzialmente esperto quindi su cui vi chiedo di essere pazienti ma che provo a raccontarvi perché è abbastanza inquietante quando bruciamo anche un falò vediamo che il cumo va verso l'alto sappiamo che l'aria calda tende a salire quando lo vediamo in un fuoco molto piccolo vediamo soltanto il cumo la cenere che vanno su e nient'altro immaginate un fuoco che è grande due volte la città di Roma immaginate la massa di aria calda che sale verso l'alto e che quindi genera in basso una zona di bassa pressione si creano quindi dei venti perché l'aria va a riempire quella l'aria fredda va a riempire quella zona che si è improvvisamente svuotata si creano dei venti che ruotano attorno alle fiamme e generano quelli che vengono chiamati dagli esperti tornado di fuoco sono delle trombe d'aria vere e proprie ma col fuoco al centro che come delle vere trombe d'aria distruggono tirano su da terra tutto quello che si può staccare da terra dalle macchine ai cassonetti ai pali della luce e poi risputano giù quello che è andato su infuocato su un raggio molto più ampio allargando l'incendio non solo questa è già una roba da film apocalittico questa massa di aria calda che poi rimane lì sopra le fiamme intanto questi tornado sono alti anche 10.000 metri quindi non si può volare sopra è l'altezza a cui volano gli aerei di linea intercontinentali ma crea delle nuvole e queste nuvole che vengono chiamate piro cumulo nembi perché nascono appunto dalle fiamme producono dei temporali e uno potrebbe dire beh arriva il temporale spegne l'incendio no perché l'aria è così calda che evapora molto prima di toccare il suolo e le fiamme e quello che rimane sono i fulmini e quindi hai questo fenomeno di tornado di fuoco con detriti infuocati e palle di fuoco che devastano tutto e tempeste temporali di soli fulmini senza acqua che contribuiscono ad allargare l'incendio è una catastrofe naturalmente indescrivibile il fumo arriva a New York che ha tre fusi orari di distanza forse di più e c'erano queste foto di San Francisco col cielo arancione nel momento in cui era in piena pandemia la cosa che dicevano tutti era fate arieggiare gli ambienti chiusi tenete aperte le finestre e gli abitanti di San Francisco in queste case piccolissime con tutta la famiglia o in questi uffici piccolissimi dovevano scegliere se tenere tutto chiuso col rischio appunto di contagiarsi in un'epoca in cui non c'erano ancora nemmeno i vaccini oppure tenere aperto ma non potevi tenere aperto perché l'aria è irrespirabile e a questo punto non stupisce che qualcuno decida di dire sapete che c'è forse vado da un'altra parte vado in Texas o vado in Idaho perché immagino che sia complesso fare i conti con la forza della natura ora anche Los Angeles Malibu per esempio è stato oggetto di un grosso incendio pochissimo tempo fa ti è capitato di averci a che fare diciamo di subire nella tua vita quotidiana quello che noi poi vediamo sui giornali in realtà leggiamo grandi incendi in California com'è quando sei lì? Sì a me che ha detto una volta quello di Malibu che dici tu perché è arrivato l'avviso fino alla mia città è passata la polizia alle 7 del mattino col microfono dicendo get out get out now io purtroppo sono un collezionista di fotografie avevo non so se 200 fotografie nelle mie pareti ho chiamato i miei amici le mie sedute sono andato sono andato a downtown Los Angeles e sono stato lì tre giorni in un albergo sperando che quando tornavo la mia casa era in piedi per fortuna non è arrivato fino lì però dopo sono fatto un giro a Malibu e quello che tu dici dei camini è una cosa incredibile cioè vedi distese di cenere con solamente i camini che sono in mattoni sopra e vedi però vedi anche la resilienza di queste persone che sono che sono chiaramente attaccate alla loro casa che lo siamo tutti però non come noi italiani loro sono molto più nomadi perciò riprendono e vanno in un'altra parte o ricomprano lì o rifanno lì perché loro sono abituati a emigrare sono abituati a muoversi sono abituati a avere altre case nella mia strada per esempio i miei vicini di casa sono cambiati tre o quattro volte l'unico che è stato lì sono io diciamo in trent'anni non ne conosco più uno degli originari vicini di casa perciò o per i fuochi o per un'altra cosa perciò loro per fortuna sono molto forti in quello io cioè se mi capitasse che mi brucia la casa divento pazzo cioè loro riprendono e rifanno vedi che non c'è alternativa lì però è sempre un trauma incredibile è stato un trauma per me quando ho dovuto chiamare i miei amici con camioncini mettere tutte le fotografie tutte le cose possibili che ti viene in mente e andare via da lì e poi non sapevi se quando tornavi c'era la casa o no sì è così vivi un po' con questa paura del fuoco e del terremoto un po' però non ci pensi però volevo dirti una cosa sulla Bank of America di Giannini una cosa che mentre tu parlavi mi viene in mente io non conosco tanti italiani che sono venuti qua in America e non hanno avuto successo è pazzesco come ogni volta che vedo un ragazzo una ragazza una famiglia che italiani che sono venuti qua che magari sono venuti qua con poco che hanno tutti non me ne ricordo uno mentre tu parlavi c'è uno che dice no sono tornato in Italia perché non ce l'ho fatta ce l'hanno fatta tutti ma bene uno qui adesso perché si sentirà se no un fallito incredibile scusa no no ma non è questione di fallire non ce l'hai fatta non è colpa tua no 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 ma magari magari non ce la fanno perché non ce la fanno a vivere qua la Lusana perché è difficile niente da dire cioè tutto quello che manca dell'Italia la senti pazzescamente questa aggregazione la piazza il bar il neighbor sì qui il neighbor quando arrivi che cambi ti dice buongiorno e poi è finita lì cioè non è che va avanti capito non è che ti invita a casa sua io ho un figlio californiano perché è nato qua eccetera quando vado da lui devo mandargli un text prima e dire se posso andare a casa sua perciò ha preso proprio in mano dell'americano vero capito c'è questo video che circola sui social l'ho postato un paio di giorni fa è un video comico quindi ovviamente estremizza delle situazioni reali caricaturizzandole e mostra questa coppia di californiani che si trasferisce in Texas e loro due vedono mentre spacchettano i loro scatoloni vedono che qualcuno si sta avvicinando alla porta di casa un signore con il cappello a tesa larga e subito pensano è qualcuno che vuole aggredirci che vuole rapinarci chiama la polizia e invece è il vicino che vuole dar il benvenuto a loro nel quartiere ma loro appunto venendo da San Francisco nel dubbio diciamo sicuramente sarà qualcuno che vuole rapinarci lui entra quindi in casa e gli dice no 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 sono nel vicino tranquilli volevo dirvi benvenuti se avete bisogno di qualcosa cercatemi loro sono molto stupiti diciamo da questo tipo di attenzioni e gli dicono no grazie perché ci siamo appena trasferiti dalla California e lui dice beh sì l'avevo capito e loro rispondono da cosa per esempio dal fatto che siete entrambi con la mascherina essendo soli a casa voi due che hanno questa fama diciamo di averla presa molto sul serio questa cosa siete soltanto voi due in casa da soli nel 2022 e la ragazza della coppia dice sì sì ma noi la terremo per sempre la mascherina poi a un certo punto lui si avvicina per stringere la mano e salutarli e loro vedono che lui ha una pistola nella fondina e ovviamente la prima cosa che fanno è tirare fuori lo smartphone e fare un video perché diciamo quando hai un torto davanti a te per la prima cosa devi girare un video un po' perché magari ti viene fuori del content utile ma sennò perché devi denunciare quello che sta accadendo e lui insomma capisce che c'è stato uno shock culturale se ne va poi ovviamente fa tutto molto più ridere di così ma ecco mi sono sentito come quello che spiega le barzellette ma lo scopo non era farvi ridere lo scopo era mostrare come la cosa che raccontava Rudy sulla base della sua esperienza su questa appunto queste relazioni umane umane deboli su questo grandissimo turnover perché poi diciamo delle complicazioni delle difficoltà di vivere in California molti lo fanno per un periodo sapendo che poi andranno via arrivano a San Francisco sapendo che mettere nel curriculum che hai lavorato per Google o per Facebook per tre anni ti permetterà di trovare un ottimo impiego da un'altra parte e quindi sono disposti a fare molti sacrifici oppure arrivano a San Francisco inseguendo quel tipo di sogno e quindi essendo cresciuti nel mito di Google fondato in un garage e quando scoprono che casa loro a San Francisco sarà un garage perché quello potranno permettersi pensano sarà un grande aneddoto nella mia biografia quando sarò diventato ricco o ricca e però poi ovviamente non è che tutti i sogni possano realizzarsi e quindi sono anche posti in cui le persone che hanno fallito ci sono e sono posti in cui si va via contribuendo a creare questa questa rete questo tessuto di relazioni molto fragili molto estemporane parlavamo prima prima di Los Angeles vi citavo La La Land la scena che apre quel film che è un film che racconta la storia di un musicista di un'aspirante attrice ma è un film che racconta la condizione estemporanea delle vite in quella città come si apre il film con un ingorgo pazzesco su un cavalcavia e le persone bloccate che escono dalle macchine e ballano quella è la classica tipica esperienza losangelina e anche su questo Giovanni D. ha scritto delle grandi pagine raccontando come alla fine Los Angeles ti convinci che l'unico tempo che conti l'unico momento che conti sia adesso perché per il resto si vive in una condizione costante in cui sembra che tutto possa accadere da un momento all'altro ma ti capita anche di passare quattro ore bloccato in macchina e le relazioni farsi degli amici vedere degli amici in questo contesto non è semplice io quando intervistavo le persone che erano andate via dalla California mi raccontavano delle cose con la luce negli occhi tipo beh adesso vedo degli amici andiamo a cena fuori ogni tanto vado a correre la sera cioè delle cose molto normali e che però in California secondo il quartiere in cui vivi la vita che fai possono essere molto complesse a questo punto però forse è il caso che io mi taccia ti dico solo una cosa l'ultima cosa scusa volevo dire Bambi volevo solo dire un'ultima cosa perché le cose che ho detto magari erano un po' negative uno dice ma allora perché stai lì l'America in generale se devo pensare una cosa positiva è questo senso di libertà e poi il senso che ti accetta per quello che sei non c'è la storia dietro tu sei figlio di uno figlio dell'altro sei ricco eccetera non esiste proprio questa cosa qua e che se praticamente davanti agli occhi della gente io vivo qua conosco molti attori eccetera e non esiste questa cosa di 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 classificazione tu sei quello sei tu non e da sommata arriva quanti soldi hai dietro non hai dietro la gente ti accetta per quello che hai l'ultima cosa in generale il senso dell'onestà il senso dell'onestà e della verità e della verità che l'America ancora noi prendiamo un po' in giro quando c'è il questionario dice tu sei stato incarcerato uno dice o tu sei mai stato uno che ha rubato uno dice ma sei cretino no perché per loro la domanda diretta e questa questa non so come spiegarvi loro hanno un senso molto infantile io spesso la chiamo ingenuità che è bellissima che è bellissima che è bellissima noi la prendiamo come ingenito e come essere cretini invece no è una cosa bellissima loro non dico perché ci sono quelli che rubano uguale come l'Italia ci sono quelli che fanno le cose sbagliate come l'Italia però il senso della verità è fondamentale cioè lo Stato crede a quello che tu dici ecco perché il loro tax fill up the tax come dice il tax reform è molto semplice perché lo Stato crede a quello che tu dici lo Stato crede a te cittadino quindi dici la verità l'IRS che è come si chiama il fisco americano quando viene qua io sono stato parte quando viene qua ti avviso due settimane prima non è come arrivano arriva come si chiama il fisco in Italia la finanza in Italia chiudono tutto e fanno la sorpresa perché bloccano tutto giusto loro ti avviene lo sistema perché guarda che noi veniamo e perciò preparati e la gente non è che sta lì a buttare via cose incendiare cose generalmente perché sa che prima o poi lo troverà e se lo trova va in galera male se invece e non è un altro mito questo loro parlano con te se tu hai fatto degli errori e tu glielo dici loro sono sono propensi a parlare con te e a fare una negoziazione poi è una questione di soldi e basta se invece tu cerchi di fregarla sei fregato un po' tutto questa è la cosa americana il fatto che se tu fai degli errori bene o male se lo dici ammettono questo errore perché sei umano se invece cerchi di fregarla loro sono più duri di qualsiasi cosa al mondo cioè nel momento in cui loro pensano che ti stai fregando loro sono di una durezza incredibile questo a me della società americana piace da pazzi perché ti lascia il beneficio di inventario e dice sei umano puoi sbagliare ma credi in te la cosa fondamentale è che lo Stato credi in te e anche il cittadino credi in te io potevo dire qualsiasi cosa loro mi credevano cioè è incredibile poi dopo se si accorgono che tu dici delle palle sei tagliato poi le dottorità ok grazie grazie Rudy chiedevo una cosa Francesco allora noi noi diciamo in metto anch'io noi siamo qui a Varese abbiamo un pezzo di storia americana molto importante proprio qui in questa piazza che conoscerai è Villa Panza è Villa Panza hai visto Villa Panza? come è con la grande esposizione di arte contemporanea americana americana infatti è la collezione del Conte Panza adesso del Fai praticamente sono tutti a environment sia da Los Angeles che anche di New York per cui New York l'angoscia le luci fredde invece la California abbiamo questi grandi spazi per cui abbiamo grandi artisti ed è diciamo l'unica mondiale in questo modo perché abbiamo una villa di 700 dove tu non vedi da fuori quello che ci potrebbe essere dentro mentre tutti i musei anche negli Stati Uniti soprattutto sia a New York che a Los Angeles già da fuori come è realizzato il museo capisci cosa c'è dentro invece qui è proprio un escurso che quando arrivi alla parte proprio della collezione perdi un po' di dove sei chissà dove sono ecco adesso accendiamo le luci e così vediamo se c'è qualcuno che vuole fare delle domande e siamo pronti te la Rudi che Francesco a rispondere c'è già una mano lì e un'altra qui c'è Valentino qui che deve venire a prendere il microfono ma avete solo un microfono capito alzatevi in piedi che vi vede ciao ok due domande velocissime intanto grazie mille quanto ok allora questo darwinismo sociale crudelissimo che genera disuguaglianza però genera anche grandi storie di successo quanto sono inscindibili le due cose cioè sarebbe possibile replicare i successi della California anche in minima parte sul modello sociale europeo secondo me è possibile cherry picking le cose buone senza quelle cattive e seconda cosa quello che succede in California tende a succedere altrove e viceversa loro quelli che in California ci rimangono che hanno un impatto così importante per la nostra vita sia dal punto di vista pratico perché social la tecnologia ma anche soft power Hollywood sanno che esiste il resto del mondo cioè noi piccole formichine dall'Europa come facciamo a comunicare a loro cosa interessa cosa allora guarda la prima domanda è probabilmente la domanda e io non sono sicuro di avere una risposta a questa domanda perché è facile vedere poi dietro questa società che è in grado di reinventarsi in continuazione che ha un rapporto col passato quasi di fastidio che non sacralizza niente sulla base del fatto che sia vecchio che si sia sempre fatto così permette dei cambiamenti molto repentini per dire il sud degli Stati Uniti che oggi è la zona che cresce di più sul piano economico fino a 30-40 anni fa era la zona più depressa del paese era la zona dove c'era agricoltura vestiamo i piantagini di potone e poco altro la ricchezza vera la classe media il sogno americano era al nord era nelle zone del Midwest era dove c'era l'industria dell'auto l'industria pesante il settore manifatturiero la parte d'America che nel novecento aveva trainato l'intero paese in un paese in cui però l'economia la società cambia in modo così rapido e quindi anche in modo così brutale tu hai ottenuto che oggi le posizioni si sono invertite e oggi invece il nord è la parte dell'America più in difficoltà parlo degli Stati come il Michigan il Wisconsin la Pennsylvania dove che stanno facendo i conti con una deindustrializzazione complessa da gestire mentre il sud galoppa e noi invece abbiamo una situazione per esempio di divario nord-sud che è immutabile da secoli praticamente il punto è può avere un tessuto così dinamico e quindi in cui poi le città le persone si possono risollevare con grande facilità in cui quando arriva il terremoto non vedono l'ora di ricostruire perché vogliono ricostruire diversamente da prima per noi la vera ossessione è sempre ricostruiremo tutto uguale a prima il terremoto fece quasi un favore a San Francisco permettendo di fare tabula rasa e ripartire puoi averlo senza avere però la ferocia che questo sistema comporta l'estrema competitività sul mercato del lavoro il fatto che puoi essere effettivamente licenziato da un momento all'altro anche senza una buona ragione io non ho una risposta a questa domanda mi piacerebbe mi piace pensare vorrei provare diciamo a cercare una qualche forma di punto intermedio forse non puoi essere la Silicon Valley se non ti tieni anche le cose che non vanno però tra essere la Silicon Valley ed essere diciamo un paese come il nostro che non cresce da vent'anni forse ci sono delle strade intermedie che senza farci diventare una società straordinariamente crudele però possa sbloccare un po' di cose che non funzionano quindi mi rendo conto che sia una risposta un po' forse evasiva però l'unica risposta che riesco a dare a questa domanda sul fatto che loro abbiano percezione di noi sì poi non è sempre una percezione esatta d'altra parte anche la nostra percezione nei loro confronti non lo è a me capita di dire che sono italiano e mi rispondono ah sono stato a Parigi quindi c'è non è che non sempre hanno un'idea della geografia però anche noi se fermiamo qualcuno per strada non voi naturalmente ma se fermiamo qualcuno per strada gli chiediamo di mettere il Brasile sulla cartina geografica non sono sicuro che tutti diciamo riescono a collocarlo quindi queste ignoranze poi esistono qual è il problema vero secondo me rispetto alla California rispetto alla Silicon Valley tu facevi l'esempio dei social che hanno cambiato tutto nel senso che oggi dal macellaio di Varese all'azienda più grande del mondo non c'è un'impresa che non si ponga il problema di che cosa postiamo oggi sulla nostra pagina è cambiato il modo di fare business è cambiato il modo che ha la politica di comunicare e tutto questo è cambiato attraverso alcuni strumenti che sono stati pensati progettati nei loro funzionamenti nei loro algoritmi in un pezzo di terra piuttosto piccolo da un gruppo di persone molto omogeneo da tutti i punti di vista hanno frequentato le stesse università hanno studiato le stesse cose sono quasi tutti ingegneri sono quasi tutti uomini sono quasi tutti bianchi e da lì viene questa idea utopistica che poi era passata anche qui in Europa all'inizio che tutto questo non avrebbe potuto che rendere il mondo un posto migliore perché in un posto così ricco così scolarizzato così omogeneo questi social media avranno l'unica conseguenza di metterci in contatto con persone che non conosciamo con persone care che vogliamo sentire di più quando hai preso quello strumento pensato in quel posto che è una bolla anche per il resto della California la Silicon Valley e lo hai calato nelle tantissime realtà del pianeta hai ottenuto un genocidio in Birmania hai ottenuto una ascesa un rafforzamento dei movimenti politici più estremisti in Europa anche grazie a questi algoritmi che per loro natura dichiaratamente premiano chi è in grado di ottenere le maggiori reazioni emotive chi urla di più chi è in grado di dire delle risposte in due righe e quindi insomma premiando evidentemente la semplificazione rispetto alla complessità e quindi loro hanno un'idea del fatto che noi esistiamo ma quando ci rivolgono a noi dei prodotti di intrattenimento o i social media tendono a pensare a un contesto in cui siamo noi che cerchiamo di assomigliare un po' di più a loro rispetto che loro che pensano a dei servizi pensati per noi si leggono costantemente degli articoli sulle testate specializzate americane non solo sullo shock degli americani o sul grande arricchimento dato agli americani dal fatto che ora su Netflix vedono anche le cose italiane francesi tedeschi perché le cose prodotte da Netflix si possono guardare dappertutto e sono doppiate in tutte le lingue e gli americani non erano mai stati esposti delle serie tv francesi o italiane e oggi cominciano a vedere ogni tanto per sbaglio nei cataloghi qualcosa ma altrimenti loro hanno sempre pensato che i loro prodotti potessero andare bene per il resto del mondo in una certa parte è stato così in una certa parte è stata anche la loro fortuna naturalmente tutto questo comporta anche una gran serie di limiti cercherò di essere più breve nelle prossime risposte così rispondo a te domande scusate voi però fatene una sola domanda così buonasera francesco mi unisco anche io ovviamente al ringraziamento volevo fare una domanda su un punto che hai posto tu e di cui ha parlato anche il signor Bianchi avete parlato di queste bolle di queste eco chambers che ricorrono fin dalla di fatto fin dalla high school ma io l'ho visto anche in ambiente universitario quindi un ambiente che dovrebbe anche essere progressista e dove insomma i giovani dovrebbero essere dovrebbero essere portati a chiacchierare anche con gente di origine di opinioni diverse invece io mi sono trovato davanti in una situazione di assoluto divide ideologico parlavi prima della purezza io mi ricordo il giorno la mattina dopo le elezioni di Trump buona parte dei miei colleghi dottorandi ovviamente elettori progressisti non si presentarono in dipartimento quasi a voler negare l'accaduto quasi a voler negare come dire l'altro lato dell'ideologia però la cosa mi preoccupa nel senso che se è vero che esistono queste bolle io non ho visto nella mia esperienza neppure quasi un desiderio di superare queste bolle stesse andare a cercare un contatto con l'altro lato tu vedi una possibile soluzione io finora ho visto le rivolte finora il momento di contatto tra i due mondi ideologici sono state le rivolte o quando si sono sparati o quando hanno distrutto le vetrine per strada da Minneapolis fino in Ohio io ho appena tornato è una questione di tempo tu dici col tempo diventeranno anche loro come noi con la circolazione non so se sia positivo ma con la circolazione delle persone di fatto oppure serve una scelta politica o non basterà neanche quello perché è un fattore culturale troppo profondo guarda c'è c'è un bel libro soprattutto su San Francisco di Michele Masneri che si intitola Steve Jobs non abita più qui San Francisco alla Baia che racconta lui si è trasferito per qualche mese a San Francisco qualche tempo fa racconta la sua esperienza nello stile che sapete essere anche molto brillante molto divertente di Masneri e lui racconta di essere finito a un certo punto in uno aperitivo di questi in cui si fa networking tutti hanno il badge col nome si presentano a turno raccontano l'idea della loro start up sono tutte delle cose abbastanza assurde è sempre molto difficile di distinguere chi è il genio che c'è ovviamente lì in mezzo da chi è il cialtrone perché all'inizio quando ti dicono la loro idea non è sempre immediato riconoscerle e lui che appunto è una persona brillante voleva anche fare un po' il simpatico quando arriva il suo turno di presentarsi dice io mi chiamo Michele Masneri vengo dall'Italia e lavoro in Italia per la Trump Organization e si crea il gelo attorno a lui e lui subito dice che era una battuta che era uno scherzo ma lui dice che per tutta la sera nessuno gli è più parlato nel dubbio l'esperienza che tu racconti che è un'esperienza universitaria quando Trump vince le elezioni le università mandano delle mail molto università non tutte ai studenti e staff dicendo non solo se volete restare a casa ma se avete bisogno di supporto psicologico insomma è stato di per sé un fatto traumatico ma che è stato vissuto con una forza particolare e con una diciamo è stato subito in modo particolare in alcune comunità che poi tu parlavi di un sistema appunto di un ambiente universitario rappresentano forse il punto diciamo di maggiore assoluta ortodossia ideologica anche rispetto al resto della società californiana che è comunque piuttosto omogeneo ma le università sono io lo scrivo nel libro le università californiane forse l'unico posto in cui ha effettivamente senso con tutte le cautele del caso parlare di eccessi del politicamente corretto che è una roba molto delicata perché è uno spauracchio molto propagandato dall'estrema destra dappertutto compreso in italia dove non abbiamo mai avuto il politicamente corretto ma vogliamo già passare alla fase della ribellione però in california nei college californiani dove diciamo chi non è ritenuto allineato al mainstream non può nemmeno parlare organizzare un convegno perché è considerato minaccioso della salute delle persone dove un professore universitario che insegna cinese lo racconto nel libro durante una lezione in cui mentre parlava in cinese ha detto una parola cinese che è ne ga che è un intercalare cinese ma siccome suona come la parola impronunciabile in inglese con la n ha turbato i studenti al punto che lo hanno richiamato e sospeso questa stava parlando in cinese ecco in questi in questi in questi posti effettivamente si percepisce un clima culturale che non è particolarmente aperto al confronto e uno può stabilire può dire non bisogna confrontarsi con i fascisti con i colpisti ma lì non c'è il confronto con chiunque dissenta anche soltanto di un centimetro ed è pericoloso perché poi nella rapidità con cui per fortuna le nostre società imparano a correggere piano piano alcuni dei moltissimi torti che facciamo ancora a qualsiasi persona appartenga a una minoranza qualsiasi persona sia diversamente abile e quindi imparare a parlare meglio imparare a non offendere le persone con una maggiore sensibilità capacità di mettersi nei panni degli altri ma non che impariamo cose nuove e impariamo quindi ad adeguare il nostro linguaggio questi cambiamenti avvengono con una rapidità sempre maggiore e ripeto secondo me è una cosa positiva e benvenuta ma se con la stessa rapidità aumenta la severità della sanzione contro chi non è aggiornato diciamo all'ultima circolare quello che succede ed è sta già accadendo negli Stati Uniti è che delle persone che hanno le migliori intenzioni e non vogliono offendere nessuno vengono automaticamente iscritte alla squadra dei fascisti dei razzisti dei sessisti dell'estrema destra e si sentono rifiutate quando in realtà il compito della società quando vuole progredire sarebbe cercare di farlo portandosi indietro il maggior numero possibile di persone spiegando raccontando quelle testimonianze ma sapendo che quella lì non può che essere una discussione basata sulla persuasione e non può essere invece qualcosa imposto con le regole per cui tu non puoi parlare e tu sì nelle università californiane questo accade molto poi ripeto è un problema secondo me in questa dimensione così grave abbastanza circoscritto da alcuni ambienti molto elitari molto intellettualizzati però sì è un problema che esiste Buonasera domanda rispetto alla questione del mercato immobiliare e del senza tetto per cui c'è domanda rispetto al mercato immobiliare in cui le case acquistano sempre più maggior costo costano sempre di più e dall'altra le persone che perdono la casa domanda tra l'altro che un po' rivedo anche nel io vivo vicino a Milano lavoro a Milano e i costi delle case a Milano e dintorni aumentano gli affitti aumentano sempre di più gli stipendi no per cui la domanda è un sistema del genere quanto può andare avanti ovvero cioè chi si può permettere di vivere in un sistema del genere e continuare a comprare e affettare case che costano sempre di più chi le ha ereditate in una parte significativa chi guadagna tanto chi guadagna molto bene in California non sono poche le persone che guadagnano bene chi si arrangia perché le case costano tanto ma se in una stanza si sta in quattro capite che si trova un modo di starci dentro con le cifre io parlo di questo esempio ed è interessante appunto il parallelo con Milano perché Milano potremmo dire Bologna potremmo dire Berlino potremmo dire Parigi di città in cui la richiesta di case è molto superiore all'offerta e quindi i prezzi salgono e ne parlo perché questo secondo me sapere cosa accaduto in California ci aiuta a capire cosa succede quando non ti occupi del problema che quello che succede è che appunto poi aumentano le persone per strada oppure le persone se ne vanno cioè le città smettono di essere attrattive a un certo punto perché la California perde popolazione Milano sarà stato a causa della pandemia ma Milano dalla pandemia in poi ha perso popolazione dopo anni di crescita era arrivata fino a un milione e quattro adesso è tornata a scendere Bologna non è facile andare a Bologna a studiare con i prezzi delle case delle stanze che ci sono a Bologna se l'esito però di questi problemi non adeguatamente governati è quello e cioè una maggiore sofferenza delle persone di sempre più persone la cosa a cui bisogna stare attenti che la soluzione ai problemi non è sempre la stessa cioè io in California dico ma non lo dico io nel libro cito tanti studi tra l'altro studi anche di orientamenti politici diversi bisogna costruire più case bisogna farle meglio bisogna costruire palazzine condomini bisogna utilizzare il suolo in modo più efficiente e poi costruire i trasporti pubblici per rendere appunto conveniente vivere in quelle zone a Milano non direi mai che la soluzione sia bisogna costruire di più perché noi abbiamo già un contesto straordinariamente urbanizzato abbiamo già palazzine e condomini a Milano la soluzione quale potrebbe essere detto che non sono un legislatore me ne vengono in mente due la prima incentivare molto l'affitto cioè l'offerta di case in affitto un'offerta particolarmente striminzita in Italia essendo un paese tendenzialmente di proprietari che vivono nelle loro case di proprietà e avendo anche un sistema fiscale che non sempre è particolarmente vantaggioso per chi affitta insomma incentivare l'affitto e aumentare l'offerta di case in affitto sicuramente sì l'altra cosa allargare ed estendere il più possibile i trasporti pubblici per far sì che si possa vivere nei comuni dell'Interland della città essendo in città essendo vicini alla città essendo in un posto che non sia un dormitorio ma che grazie ai mezzi pubblici grazie alla facilità di movimento possa avere anche delle vite diurne possa avere dei locali possa avere una vita culturale possa avere dei servizi quelle sono delle soluzioni praticabili forse per una città come Milano certo non costruire di più una cosa su cui ho scherzato l'altra volta in città e con questo chiudo perché non abbiamo più tanto tempo facciamo poi il firmacopie è che forse per incentivare le persone a trasferirsi nell'Interland di Milano bisognerebbe anche affrontare una battuta una sorta di rebranding dei comuni e quindi prendere comuni tipo Ro tipo Pero e dargli dei nomi diversi abbiamo fatto Nolo a Milano non so se sapete questo quartiere che abbiamo dato un nome più figo e la gente è andata ad abitare da quelle parti forse Gorgonzola dobbiamo chiamarle in un altro nome per attirare Milanesi ma ovviamente è una battuta grazie ancora grazie alla premio Chiara grazie mille grazie Rudy grazie grazie Rudy vuoi dire qualcosa? no no beh ne ho tante cose però grazie a voi che mi avete sentito molto piacere grazie a voi tutti allora un piccolo presente per Francesco pochi cioccolatini perché dopo fanno male brava meglio grazie Rudy non posso darti i cioccolatini della Lint saranno per la prossima volta due libretti per il mio Chiara per il mio Chiara giovane da leggere con calma grazie mille grazie mille facciamo il film a copie un po' in ordine grazie Rudy grazie a voi mi è stato un piacere ciao abbassiamo un po' si te lo presi fuoco perché poi non so se sei vegano o non vegano grazie a voi 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 grazie a voi